Benvenuto a Imparo giocando con Tom, Susie, Millie e Beef Il nostro nascondiglio Ciao, che bello rivederti Siamo pronti per le nuove fantastiche avventure di Imparo giocando con Tom, Susie, Millie e Beef Vuoi venire nel nostro nascondiglio segreto? Non c'è bisogno che tu conosca la parola d'ordine Ti faccio entrare io Fai clic sull'etichetta con il tuo nome Se questa è la prima volta che giochi con noi Fai clic sulla stella Siamo nel nostro nascondiglio segreto Unisciti a noi Sarai il nostro ospite d'onore Ciao Eccoti nel nostro nascondiglio Un momento Conosci la parola d'ordine per entrare? Non dare ascolto a Tom Puoi venire nel nostro nascondiglio tutte le volte che vuoi Dobbiamo stare attenti, Millie Non possiamo far entrare tutti Avanti Un momento Chi va là? Sono io, Beef Fatemi entrare Qual è la parola d'ordine di oggi? Ehm... Salsicce No, questa era quella di ieri Ehm... Medusa Ok, puoi entrare Ciao Ciao Beef Vuoi fare merenda con me? Oh sì, grazie Ehi ragazzi Chi va là? Non riconosci la mia voce? Non ne sono sicuro Ma Tom, è Susie Lasciala entrare Qual è la parola d'ordine? Ho portato dei pasticcini Va benissimo anche questa parola d'ordine Puoi entrare Adesso che ci siamo tutti Fai clic in vari punti del nostro nascondiglio Oppure fai clic su di noi Per fare i nostri fantastici giochi Questo nascondiglio È il posto ideale Per fare bird watching? Spero che nessuno scopra Il nostro nascondiglio segreto Ti va una tazza di tè? Nel mio ved... Fai... Giochiamo! Ciao! Oggi vedremo degli ingrandimenti al microscopio Quando voglio vedere bene come sono fatti gli insetti A volte uso la lente d'ingrandimento Ma se voglio vedere qualcosa molto ingrandito Uso il microscopio Con il microscopio Gli oggetti minuscoli e i loro particolari Sembrano molto Molto grandi A volte guardando un ingrandimento al microscopio Non è facile capire di cosa si tratta E in questo gioco Tu mi potrai aiutare a farlo Qui sulla sinistra ci sono dei vetrini I vetrini Sono lastrine di vetro In cui si mette ciò che si vuole esaminare al microscopio Per prima cosa Fai clic su uno dei vetrini E trascinalo fino al microscopio Così vedrai un ingrandimento Cerca di indovinare di cosa si tratta E fai clic sull'etichetta giusta Se la tua risposta non sarà quella giusta Ti mostrerò un'immagine meno ingrandita Così vedrai una parte più riconoscibile Dell'oggetto o dell'animale da indovinare Se indovinerai Ti mostrerò l'oggetto o l'animale per intero Quando avrai indovinato sei volte Ti darò un pezzo del puzzle Ok, fai clic su uno dei vetrini E trascinalo fino al microscopio Cosa potrebbe essere? Sembra un abete Ma è bianco Indovina di cosa si tratta Fai clic su una delle etichette Esatto! È una piuma Le piume servono a tenere gli uccelli caldi e asciutti Trascina il prossimo vetrino fino al microscopio Bene! Sai dirmi di cosa si tratta? Cos'è questo? Con tutte quelle linee sembra una carta stradale Fai clic su una delle etichette Peccato! Ti faccio vedere un'immagine meno ingrandita Una parte di te potrebbe lasciare questo segno Ma di quale parte si tratta? Non va ancora bene Lascia che ti mostri di cosa si tratta È un'impronta digitale! Le impronte digitali sono diverse da individuo a individuo E sono formate da tante linee sulla pelle Trascina un altro vetrino fino al microscopio Sembra il rivestimento di un animale Bene! È un pesce! Le scaglie dei pesci formano delle placche osse Che li proteggono dalla temperatura eccessivamente calda o fredda dell'acqua Qual è il frutto che non piace ai pesci? La pesca! Trascina il prossimo vetrino fino al microscopio Questo lo hai già indovinato! Trascina un altro vetrino Sai dirmi di cosa si tratta? Una grande macchia nera! Ma ce ne potrebbero essere molte altre! Indovina di cosa si tratta! Non va bene Ti faccio vedere un'immagine meno ingrandita Vedo altre macchie! Cosa potrebbe averne di simili? È una coccinella! Quando questo piccolo insetto vuole prendere il volo Solleva la sua corazza E mostra due paia di ali trasparenti Trascina un altro vetrino fino al microscopio Cosa credi che sia? Sembra una lunga corda Ma sappi che quello che vedi È molto più grande delle sue dimensioni reali Cosa potrebbe essere? È un ago col filo Sarebbe molto più comodo infilare il filo negli aghi Se avessero queste dimensioni Ma così si potrebbero cucire soltanto gli abiti di un gigante Adesso trascina l'ultimo vetrino fino al microscopio Sai dirmi di cosa si tratta? Secondo me si tratta di qualcosa di peloso Cosa potrebbe essere? È un ragno! All'estremità delle zampe di un ragno ci sono degli uncini Che lo aiutano a camminare velocemente lungo i fili della sua ragnatela Pensa se i ragni fossero davvero così grandi Mamma mia! Fantastico! Ne hai indovinati sei! Ti meriti un pezzo del puzzle Se vuoi giocare ancora fai clic su una delle etichette Se invece vuoi tornare dagli altri Fai clic sul pulsante con la casa Eccoti di nuovo! Susi ha portato nel nascondiglio dei buonissimi pasticcini Così possiamo fare una buona merenda Prima di cominciare la merenda Forse dovremmo ripassare le regole del nostro nascondiglio Per vedere se le ricordiamo tutte Tom, perché non prendi un pasticcino anche tu? Regola numero uno Tom! Regola numero uno Per entrare nel nascondiglio segreto Bisogna sempre dire la parola d'ordine Susi non l'ha fatto Però lei ha portato i pasticcini Regola numero due Per ammettere qualcuno nel nascondiglio segreto Tutti i membri devono essere d'accordo Questo vuole anche dire che Se tutti noi siamo d'accordo Possiamo espellerti dal nascondiglio segreto Se continui a interrompere la merenda? Non vorrete espellermi davvero, eh? Potremmo farlo se non la smetti di elencare le regole Mettiti seduto e fai merenda con noi Ok, solo un'ultima regola Tom! Regola numero tre La merenda è più importante delle regole Sono d'accordo Adesso finalmente possiamo mangiare i pasticcini Non ci sono regole che ti impediscano di esplorare il nostro nascondiglio Dai un'occhiata qui intorno E fai clic su di noi per fare i nostri fantastici giochi Giochiamo! Ciao! Sto sviluppando delle fotografie Ma prima di vedere come sono venute Ho bisogno del tuo aiuto per ricomporre delle frasi Nella prima fila di fotografie Vedrai delle parole che compongono una frase Solo che saranno tutte mischiate Cane il marrone è Tu dovrai riordinarle per comporre la frase correttamente Devi fare clic sulle parole E trascinarle sulla seconda fila di fotografie Nella posizione giusta Così Il cane è marrone Adesso possiamo vedere la fotografia Sì! Il cane è marrone! Ma prima di cominciare ho bisogno di sapere come te la cavi con le frasi Se te la cavi bene a riordinare le parole di una frase Fai clic sul pulsante blu Se invece riordinare le parole di una frase è la tua specialità Fai clic sul pulsante arancione Quando mi avrai aiutata a ricomporre sei frasi Ti darò un pezzo del puzzle Adesso vediamo le parole da riordinare Due L Tenendo Palloncini Uomo Sta Fai clic e trascina le parole al posto giusto Sulla seconda fila di fotografie Ops! Alcune parole non sono nella posizione giusta Prova un'altra volta Sembra che tu abbia bisogno di un aiuto Lascia che ti dia una mano Per ricomporre la frase Le parole vanno in questo ordine L'uomo sta tenendo due palloncini Vediamo se è vero No! L'uomo non sta tenendo due palloncini Adesso vediamo le parole da riordinare Morbillo Il Questo A Bambino Fai clic sulle parole E trascinale al posto giusto Sulla seconda fila di fotografie Per ricomporre la frase Alcune parole devono andare in una posizione diversa Riprova! Sembra che tu abbia bisogno di un aiuto Lascia che ti dia una mano Per ricomporre la frase Le parole vanno in questo ordine Questo bambino ha il morbillo Adesso vediamo la fotografia Sì! Questo bambino ha il morbillo Ecco le parole da riordinare Senza benzina L' È Automobile Fai clic e trascina le parole al posto giusto Sulla seconda fila di fotografie Devi mettere tutte le parole in un diverso ordine Sembra che tu abbia bisogno di un aiuto Lascia che ti dia una mano Per ricomporre la frase Le parole vanno in questo ordine L'automobile è senza benzina Vediamo se è vero Sì! L'automobile è senza benzina Ecco le parole da riordinare Rossi Il Ha Bambino Capelli I Fai clic sulle parole E trascinale al posto giusto Sulla seconda fila di fotografie Per ricomporre la frase Il Bambino Ha i capelli rossi Adesso vediamo la fotografia No! Il bambino non ha i capelli rossi Adesso vediamo le parole da riordinare Del È Compleanno Il Bambino Fai clic sulle parole E trascinale al posto giusto Sulla seconda fila di fotografie Per ricomporre la frase È il Compleanno del Bambino Vediamo se è vero Sì! È il Compleanno del Bambino Adesso vediamo le parole da riordinare Per ricomporre l'ultima frase A Sta Bambina La Cavallo Andando Fai clic e trascina le parole al posto giusto Sulla seconda fila di fotografie La Bambina sta andando a cavallo Adesso vediamo la fotografia Sì! La bambina sta andando a cavallo Bene! Hai ricomposto tutte le frasi Ti meriti un pezzo del puzzle Se vuoi giocare ancora Fai clic sulla fotografia Se invece vuoi tornare dagli altri Fai clic sul pulsante con la casa Mmm! Abbiamo fatto proprio una buona merenda! Pasticcini molti mangiato! Eh? Cosa hai detto Tom? Pasticcini molti mangiato! Cosa vuoi dire? Stavo dicendo Ho mangiato molti pasticcini all'incontrario Perché? Potrebbe essere il nostro nuovo linguaggio in codice Potremmo parlarci invertendo l'ordine delle parole Così nessun altro ci capirebbe Capire di penso non Cosa? Ho detto non penso di capire all'incontrario Tom A cosa serve un linguaggio in codice Se neppure noi riusciamo a capirci? Mmm! Capisco cosa intendi dire Volevi dire? Dire intendi cosa capisco? Giochi fantastici nostri i fai non perché? Voglio dire Perché non fai i nostri fantastici giochi? Ti divertirai un sacco! Fai clic in vari punti del nascondiglio Oppure fai clic su di noi Per fare i nostri giochi Ti va una tazza di tè? Non darò a ne... Fai... Cominciamo a giocare! Ciao! Ti va di giocare a nascondino? Io mi nasconderò in uno dei luoghi Indicati da questa mappa di Imparo Giocando Tu dovrai seguire le mie indicazioni E fare clic sulla casella dove pensi di trovarmi Per spostarti nella direzione giusta Devi conoscere i punti cardinali Nord, Sud, Est, Ovest E devi tenere in considerazione I numeri e le lettere scritte ai lati della mappa Se dico che parto dalla casella B3 Cerca la colonna B Poi seguila fino ad arrivare al numero 3 Ma prima di cominciare ho bisogno di sapere come te la cavi con una mappa Se pensi di riuscire a seguire due istruzioni di seguito Fai clic sul pulsante blu Se invece pensi di riuscire a seguire tre istruzioni di seguito Fai clic sul pulsante arancione Quando mi avrai trovato in tre posti diversi Vincerai un pezzo del puzzle Adesso mi nascondo Per trovarmi devi partire dalla casella D1 Fai clic su questa casella Non è quella giusta Riprova Lascia che ti mostri la casella iniziale Eccola Vai a Nord di tre caselle Poi vai a Ovest di una casella Poi vai a Sud di due caselle Riesci a trovarmi? Fai clic sulla casella dove pensi che mi sia nascosto Riprova Non mi hai trovato Lascia che ti mostri dove sono Eccomi Sono al parco Ok Adesso mi nascondo di nuovo Per trovarmi Devi partire dalla casella D4 Fai clic su questa casella Esatto Vai a Sud di due caselle Poi vai a Ovest di due caselle Poi vai a Nord di una casella Dove sono? Fai clic sulla casella giusta Eccomi! Sono a casa di Susi Per fortuna ho questa mappa Altrimenti rischierei di perdermi Ok Adesso mi nascondo di nuovo Per trovarmi Devi partire dalla casella D4 Fai clic su questa casella Giusto! Vai a Sud di due caselle Poi vai a Ovest di una casella Poi vai a Sud di una casella Dove pensi che io sia nascosto? Fai clic sulla casella giusta Trovato! Sono alla caserma dei Vigili del Fuoco Hai giocato così bene che ti meriti un premio Ecco un pezzo del puzzle Ti va di giocare ancora a cercarmi? Se vuoi giocare ancora fai clic sulla mappa Se invece vuoi tornare dagli altri Fai clic sul pulsante con la casa Ho un mapper potrei Fai clic Cominciamo a giocare! Ciao! Ti piacerebbe avere un nascondiglio segreto Dove incontrarti con i tuoi amici E comunicare in codice In modo che nessun altro possa capire In questo gioco Puoi usare la mia macchina speciale Per scrivere dei messaggi in codice Che potrai stampare per i tuoi amici Per prima cosa Devi scegliere uno dei tre codici segreti Puoi scegliere questo codice Questo Oppure quest'altro Fai clic su uno di questi pulsanti Per scegliere un codice segreto Grande! Questo sarà il tuo codice Ma prima di poterlo usare Devi decifrare una parola segreta Quando l'avrai decifrata Ti darò un pezzo del puzzle Ecco la parola Per scoprire qual è la parola in codice Fai clic sulle lettere nere dell'alfabeto Corrispondenti ai simboli Ai disegni O alle lettere del codice che hai scelto Per scoprire qual è la parola in codice Per scoprire qual è la parola in codice Fai clic sulle lettere nere dell'alfabeto Corrispondenti ai simboli Ai disegni O alle lettere del codice che hai scelto Peccato Lascia che ti aiuti Questa è la prima lettera della parola Continua Bene Il mio nome in codice sarà Cuore rosa Tu invece che nome in codice vorresti avere? Ottima scelta Sì Esatto La parola in codice è Gioia Visto che te la sei cavata così bene Ti meriti un pezzo del puzzle Adesso puoi scrivere il tuo messaggio E vederlo scritto in codice Usa la tastiera Per scrivere un breve messaggio Da far avere ai tuoi amici Ricordati che verranno codificate Solo le lettere dell'alfabeto Quindi non utilizzare numeri Né segni di punteggiatura Quando avrai finito di scrivere il messaggio Fai clic su questo pulsante Per vederlo scritto in codice Mi dispiace Non c'è più spazio per scrivere Usa la tastiera Per scrivere un breve messaggio Da far avere ai tuoi amici Quando avrai finito Mi dispiace Non c'è più spazio per scrivere 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 Ok Vediamo com'è il tuo messaggio scritto in codice Vuoi stamparlo per farlo avere ai tuoi amici? Se vuoi stamparlo Fai clic sul pulsante della stampante Se invece vuoi continuare Fai clic sulla macchina dei codici Ti va di giocare ancora? Se vuoi giocare ancora Fai clic sulla figura Se invece vuoi tornare dagli altri Fai clic sul pulsante con la casa Benvenuto a Movimento Il puzzle animato Per il tuo divertimento Guarda Hai un pezzo del puzzle Che puoi già sistemare Vediamo se riesci a capire dove va E poi trascinalo al suo posto Giusto Ci sta Ecco un altro pezzo da sistemare Dove va? Esatto Ecco un altro pezzo da sistemare Dove va? Giusto Ci sta Ecco un altro pezzo da sistemare Dove va? Esatto Complimenti Questa parte del puzzle È completa Ora Fai clic sulle figure E guarda cosa succede E non dimenticare Ci saranno Altri quattro pezzi di puzzle Nel prossimo numero di Imparo giocando con Tom Susi Millie E beef Sento un buon profumino Pomodori Erbetti aromatiche E qualcosa di insolito Chissà se il cuoco mi darà un pezzo della sua torta salata Potrebbe dividerla con me Ehi signor cuoco Potrei avere un po' della sua torta salata Eh l'ho appena sfornata Bisogna aspettare che si raffreddi Non vedo l'ora di assaggiarla Mentre aspettiamo che la torta salata si raffreddi Fai clic in vari punti della cucina Per vedere cosa succede Ha ha Benvenuto al laboratorio della creatività Questo è golosino il maialino Adora le mele Eccolo nel frutteto Col suo cestino Che cerca di raccogliere il maggior numero di mele Tu devi spostarlo a sinistra e a destra con il mouse Per sistemare il suo cestino Sotto le mele che lui vuole prendere Ogni volta che lo aiuterai a prendere una mela Farai un punto Ma attenzione Lui non vuole le mele bacate Se prenderai una mela bacata Perderai un punto Guarda qui per vedere quanti punti riesci a fare Fai clic su golosino per spostarlo Preparati Sta per cadere una mela Sì Bene Golosino non voleva quella mela Così Ne hai presa una marcia Ottima presa Ottima presa Questa è usera Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.